Il comitato regionale pugliese gioca d'anticipo, convoca i presidenti di Corato e Sava, Maldera da un lato e Vinci dall'altro e decreta la disputa di una doppia sfida in programma il 24 aprile al Camassa e il primo maggio al Coppi. Un incrocio dal valore però indefinito. La vincente potrebbe acquisire la possibilità di disputare i play-off nazionali per il salto in Serie D, ma allo stesso tempo rimanere ugualmente in eccellenza senza giocarsi le chance contro le omologhe degli altri gironi italiani. Tutto dipenderà dal Barletta. Se i biancorossi vincessero la Coppa Italia di Lettanti, approderebbero direttamente in interregionale e con loro di riflesso anche il Martina, che dal canto suo è in trepidante attesa. Se la squadra di Farina invece dovesse fermarsi in semifinale contro l'Ossese o in finale, probabilmente contro il Salzo Maggiore, giocherebbe la finalissima contro il Martina e renderebbe pressoché nulla la sfida tra Sava e Corato. Una grossa responsabilità quindi per vicedomini e compagni che giocheranno con il peso di avere tra le mani non soltanto il loro destino, ma anche quello di altre tre società.